Amici della Polisportiva Cingoli, bentornati a Pala Quaresima Intervista. Oggi siamo con il capitano Diego Strappini. Ciao, bravo e molto a tutti. Ciao Diego, parliamo un po' degli appuntamenti della Sant'Arelli Cingoli nel campionato di Serie 2 maschile. Veniamo da una vela vittoria per il 42-28 contro il Verde Azzurro Sassari in una partita di domenica. Come commenti questa importante vittoria che vi consente di ottenere la seconda vittoria consecutiva. Sì, è una vittoria che ci dà morale. Questa, come anche stata quella di Teramo, perché vincere tanto contro la terza in classifica sicuramente ci fa stare più tranquilli. Però dobbiamo anche analizzarla perché è una partita dove abbiamo commesso diversi errori, abbiamo perso sicuramente troppi balloni. Abbiamo ripiegato male, soprattutto in inferiorità numerica. Però sono aspetti nei quali stiamo lavorando, abbiamo cominciato a lavorarci in settimana. E sono sicuro che dalla prossima miglioreremo anche sotto questi aspetti. Sabato c'è la sfida al Bologna, che nonostante la classifica comunque si è reso protagonista in queste ultime giornate di alcune ottime prestazioni. Come commenti questa nuova partita che attende la Sant'Arelli? Sì, il Bologna è il fanario di quota, però sappiamo che sta cercando di risalire. Ha le ultime possibilità per cercare di non retrocedere. Poi in casa loro sicuramente non sarà così facile, secondo me, dall'inizio. Però dobbiamo cercare subito di incanararla nella giusta direzione, far vedere subito la nostra superiorità e per cercare di evitare sorprese a fine partita. Grazie Diego, vi ricordiamo che la partita tra Bologna e Sant'Arelli-Cingoli si giocherà sabato 5 marzo alle ore 19.30. Vi informeremo sui nostri canali social se ci saranno eventuali dirette Facebook. Buona serata a tutti, ciao Diego, grazie. Buona serata, ciao Gian.